benvenuti a un altro video di cricat italia oggi vi mostreremo come utilizzare la funzione stampa italia grazie a questa funzione è possibile creare adesivi personalizzati con qualsiasi disegno la funzione stampa italia richiede una macchina da taglio della famiglia maker maker o maker 3 o explore con explore air 2 oppure explore 3 carta adesiva un tappetino da taglio azzurro una lama a punta fine e una stampante ho selezionato un disegno direttamente dalla libreria di immagini di design space i disegni sono sulla mia tela e premerò crea in alto a destra design space mi dice che stamperà e taglierà i miei progetti premo continua il progetto verrà inviato alla stampante seleziono la mia stampante il numero di copie che voglio stampare inizio la stampa seleziono quindi il mio materiale in questo caso una carta adesiva la macchina mi dice che devo usare la lama punta fine a questo punto la macchina scansiona il disegno per individuare tutti i contorni la macchina rileva che ho inserito la lama giusta e inizia a tagliare come potete vedere la cricut maker ha scansionato il contorno del disegno e lo ha tagliato per creare un adesivo grazie per aver guardato questo video non esitate a lasciare i vostri commenti e iscrivervi al canale di cricut italia per ricevere ulteriori ispirazioni a presto